Proseguono a ritmo serrato e senza sosta i controlli delle forze della Polizia Municipale sull'intero territorio della Locride al fine di intensificare il più possibile tutte le misure di contenimento messe in atto dal Governo per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e la battaglia la si vince sia ad avere la meglio e la prevenzione e soprattutto il buonsenso di ognuno di noi nello stare a casa e quindi nell'evitare assembramenti in strada o qualsiasi tipo di rapporto sociale ravvicinato Come vedete in queste immagini che abbiamo realizzato a Caulonia, gli operatori della Polizia Locale laddove riscontrassero anomalie o spostamenti, se non per comprovata necessità e quindi transito dovuto a motivi di lavoro per l'acquisto di beni primari o di salute, sanzionano i trasgressori La presenza delle pattuglie sparse su tutta la costa ionica garantisce altresì un aiuto e sostegno alle persone che in questo momento sono più fragili